Buongiorno, oggi ho deciso di testare una ricetta che c'è sempre sul web per fare la sabbia cinetica, visto che mio figlio ci gioca tanto voglio proprio provare io ho messo l'amido di riso e un po' di detersivo dei piatti poi a quel punto si dovrebbe mettere il colore io uso una tempera al momento perché voglio solo provare e dell'acqua iniziamo a girare e vediamo che cosa otteniamo io ottengo l'acqua no mami io ottengo l'acqua ho ottenuto una bella poltiglia e adesso che ho fatto la mia bella poltigliotta andrò ad aggiungergli la farina man mano finché dovrei ottenere in teoria questa sabbia cinetica fermo dodo da io ottengo allora adesso me la sto impastando un po' a mano sempre farina ma a me pare che il risultato che andiamo a ottenere è un pongo più vado avanti più mi da aria di pongo adesso me la impasto un attimo bene e vi faccio vedere il risultato finale eccolo qua il risultato che io ho ottenuto direi proprio pongo non è sabbia cinetica vabbè ci abbiamo voluto provare le mani non sembrano sporcarsi di colore al di là del fatto che io lo sto toccando e quindi vabbè un po' va nelle unghie un po' adesso te lo do amore certo adesso tra un po' lo usi allora io continuo a impastarlo comunque pongo niente sabbia cinetica tentativo primo fatto prima o poi riuscirò a farla questa sabbia cinetica per chi guarda se avete consigli perché no magari li provo mamma questo è letteralmente pongo mamma no vaici a giocare vai mettilo nel barattolino così non sporchi in giro vai vai a giocare con la sabbia la finta sabbia cinetica il pongo sì ciao ciao fammi vedere come ci giochi con questa sabbia con questo pongo io però ti direi di togliere la tovaglia e qua si può giocare ecco ecco abbiamo creato un nuovo gioco per Dominic ciao a tutti ciao a tutti bello ti piace vabbè e qui direi quindi buon divertimento per i vostri figli se volete provare anche voi ma non mi viene la sabbia cinetica a me magari a voi sì a me è venuta pongo 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 sembra che colore non ne lasci sul tavolo fortunatamente ciao buona continuazione aici è schiața forte ma che escono i filini è proprio lavorabile come il pongo che bello ciao a tutti ciao a tutti pongo pongo ti ha fatto il pongo la mamma siamo partiti da una sabbia cinetica e siamo arrivati al pongo dai schiaccia schiaccialo schiaccia dai vai bello patata perché lo sbatti? dai tante tante pezzini tanti pezzettini e adesso cosa ci fai con tanti pezzettini? questo? guarda che era rimasto un po' dentro staccalo tienilo dai ah c'è anche lì? è tutto uscito tutto uscito tutto uscito ancora dai continua a giocare ciao ciao dici ciao a tutti di gioco col pongo ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti